Allora, signori, buongiorno. In questo video ho deciso di parlare di fiducia in se stessi, partendo da questo video di Montemagno, che fa praticamente una sintesi, almeno di alcuni punti, di quello che dice questo Muratoglu, che ho scoperto essere un insegnante di tennis, a una tennis academy, perché questo è lateralmente rilevante per quelli che sono i nostri interessi, cioè seduttivi, beh, per due motivi. Primo, gli allenatori sportivi sono abituati e forzati a lavorare con metodiche che cercano di spremere il massimo dalla prestazione dell'utente e quindi sono in qualche modo simili a noi, a quello che dobbiamo fare noi. E in secondo luogo, se tu non lo sapessi, una volta c'era questo, ci fu questo libro, fu scritto questo libro, l'inner game del tennis. Non ti consiglio di andarlo a leggere perché è abbastanza irrilevante, è un libro di Timothy Galway e da lì, in parole povere, nacque tutta la corrente, partendo con David DeAngelo e compagnia cantante che trasportò il concetto di inner game in seduzione. Ora, banalizzando e bastardizzando il tutto, il concetto di fondo è, anche se so quello che devo fare, se non riesco ad eseguirlo perché dentro non mi sento nel modo più conduttivo ad un'esecuzione corretta, in realtà performerò meno. Cioè, in buona sostanza, come si dice anche in seduzione, un tennista in questo caso, durante la partita, che è 1-1 ovviamente, potrebbe essere il peggior nemico di se stesso. Cioè, la sua difficoltà non è tanto l'avversario, ma in questo caso il chiacchiericcio interno che c'è all'interno della sua mente. In futuro avremo più modo sicuramente di parlare di queste cose. Comunque, insomma, penso che possiate capire qual è il paragone, la metafora, seduzione tennis. E per di più, questo è proprio un percorso storico, no? Cioè, si parte dal libro del tennis sull'inner game e alcune persone pensano inner game nel concetto di seduzione e non solo di tennis. Quindi questo è un video di Montemagno. Lui, mi sembra di capire, sia un campione di ping pong, quindi presumo che abbia riportato fedelmente quello che dice questo allenatore. Ho saltato la prima parte perché parla di crisi, roba che non ci interessa. Passiamo subito alle strategie che questo allenatore suggerisce e vediamo se sono di interesse anche per noi. Possono dare una mano anche a noi a migliorare per quelli che non sono i nostri scopi, che ti ricordo sono seduttivi. Sempre a questo scopo, ti ricordo, canaetelegrangio di Lorenzo, link in descrizione, lì informazioni molto più utili, molto più avanzate, molto meno politicali corrette, eccetera, eccetera, che qui su YouTube non ti posso dare. Quindi partiamo e vediamo cosa la dice Montemagno. Si applica a tanti settori, vedremo se si applica a quello seduttivo. Nel senso che ovviamente ci possono essere delle regole base per quanto riguarda la fiducia in se stessi, ma a mio modo di vedere, a seconda del angolo da cui si vuole applicare la fiducia in se stessi, potrebbero esserci alcuni accorgimenti che cambiano, o meglio dell'ambito in cui vogliamo applicare la fiducia in se stessi. Ti ricordo che il mio schieramento è molto molto chiaro, e cioè che, visto che con la salute non si scherza, te lo dice qualcuno che la salute, insomma, ce l'ha un po' ballerina a 41 anni, il mio consiglio è sempre quello di partire da un sostegno psicologico, se un altro per avere una diagnosi e capire qual è la tua situazione di partenza. Nel senso che i vari coach di inner game, di pick up, di sviluppo personale, di self help, di tutto quello che vuoi tu, per carità saranno persone bravissime, ben motivatissime, tutta quella roba là, però non sono equipaggiati per fare diagnosi e quindi la prima linea difesa, in questi casi dovrebbe sempre essere, ripeto, psicologo, poi tutti quelli che sono i centomila, le centomila sfumature di grigio dell'inner game, sono qualcosa di integrativo, ok? Ripeto sempre, questo non è un disclaimer per proteggere me, ma è un disclaimer per proteggere te, la tua salute. Andiamo avanti. Esistenziale, lavorativo e non solo. Il primo consiglio che dà è che non esiste la fiducia in noi stessi a compartimenti stagni, non è che non ho fiducia in me stesso nel lavarmi i denti, non sono proprio fiducioso nel lavaggio dei denti e poi allora 30 secondi dopo mi trasformo in un amministratore delegato, un fondatore di un'azienda super fiducioso in se stagni. Ecco, qui quindi dice non esiste la fiducia in se stessi in compartimenti stagni. Sono completamente in disaccordo con questa cosa, nel senso che io, essendo che ho lavorato e mi sono addestrato per anni in seduzione, sono estremamente fiducioso in me stesso in seduzione, se mi metti davanti a delle equazioni di algebra, vedi la mia fiducia in me stesso, andare a picco. Ovvio che con quelle che sono le mentalità che ho costruito nel tempo potrei dirti, se ce ne avessi voglia, che io con l'algebra non avrei esempio a cazzo, ma tanto per capirci, e mi dessi un tempo di addestramento sufficientemente in algebra per diventare, tra virgolette, sicuro di me stesso, allora potrei traslare questa sicurezza di me stesso anche in altri campi. Però, con due grosse cavilli. Il primo è che la fiducia in noi stessi è in parte legata a quelli che sono i risultati che otteniamo in campo X, ok? E questi possono essere in parte o gran parte plasmati da quello che è l'addestramento attraverso cui noi passiamo, ma c'è anche una componente di talento che quindi renderà molto più probabile, se non sicuro, che a parità di sforzo una persona più talentuosa in realtà avrà più fiducia in se stesso di quella meno talentuosa. Tanto per capirci meglio, visto che qua stiamo parlando di sport, se mi metti a giocare a pallone e ci metto lo stesso sforzo che ci ha messo Cristiano Ronaldo, lui molto probabilmente, anzi togliamo il molto probabilmente perché la calcio è una bestia, sarebbe diventato Cristiano Ronaldo e io al massimo un giocatore di eccellenza, mi sembra che si chiami la categoria, quel cazzo che è e quindi lui sarebbe il risultato, come risultante finale, molto più fiducioso in se stesso di quanto non sono io riguardo al calcio. Non è così, la fiducia in te stesso traspira in tutte le attività che fai. Però questo è parzialmente vero, nel senso che se tu riesci a ottenere risultati in tante aree della tua vita, che quindi in questo caso non sono solo la seduzione. Ed è per questo che io dirò un po' il cazzo, ragazzi, massimizzate il vostro essere in vivo, allora sul mercato sessuale, in tutti quelli che sono i possibili aspetti, perché ha degli effetti trasversali in tutta quella che è la vostra vita. Però questo è vero, se uno migliora in tante aree a cui ha dedicato un addestramento, allora il cervello, perlomeno per quella che è la mia esperienza, non pretendo di dire che il mio cervello funzioni come quello di tutti, ma il cervello inizia a dire allora io posso. Cioè io sono passato, per esempio, da, puoi andare a vedere i miei video dove spiego quella della mia storia, ma sono passato, diciamo, da uno stato del tipo, ah no, sono una merda, ah no, io non posso, a uno stato del tipo, ah se mi faccio il culo invece allora io posso. Poi al netto del fatto che il culo non è sempre l'unica discriminante. Tu non hai fiducia in te stesso, quando vai a fare un ordine al ristorante, è la stessa cosa, te lo porti dietro quel non fiduciarti, mi piaceva fiduciarti. Però è così, uno non ci pensa, però devi costruire un rapporto importante tra te e la fiducia in te stesso, perché se no, come fai ad acquisirla per magia? È sempre sfigato, triste, non ce lo farò mai, e poi no, però ho un grande fiducia in me stesso sul campo da tennis, sul lavoro, nei rapporti, bla bla bla. E questo è importante, non è a compartimenti stagni, è sempre un osmosi. E l'esempio che fa è il padre della Williams, della Serena Evinus Williams, che ha sempre cercato di incentrare la loro fiducia in se stesse in ogni momento della loro attività, non solo sul campo da tennis, anche fuori. Uno se ne dimentica, ma è molto importante. considerazione numero due, un grande classico. Ecco, io continuo a essere in disaccordo con questa cosa, nel senso che ci sono persone che sono dotatissime e sicurissime in alcuni campi che sono spesso quelli di loro competenza, ma usciti da quel campo la loro fiducia in se stessi crolla, ed è semplicemente questo dovuto al fatto che mentre in campo X hanno avuto dei continui rinforzi positivi di successo, in campo Y non ce li hanno avuti. Quindi se tu vuoi diventare sicuro di te stesso, comunque hai bisogno di un feedback da parte del mondo esterno. Se questo feedback non funziona, o tu, nel senso che vuoi fare quello sicuro di te stesso sul piccolo della montagna, dove non hai stimoli esterni, allora va tutto bene, oppure il mondo, la realtà esterna, è sempre più forte di qualsiasi, insomma, mantra, tu ti possa ripetere all'infinito, ora ho detto mantra, ma potrebbe essere qualsiasi cosa. Il classico dello sport è che non si gioca soltanto con quelli più bravi, si gioca anche con quelli meno bravi. Prima di una gara, io ricordo il mio allenatore me lo diceva sempre, o gioca anche con quelli più scarsi, dove tu vinci. Perché se giochi solo con quelli più bravi, è vero che ti abitui a una palla migliore, a un livello di difficoltà maggiore, però poi perdi un sacco. Quando hai in campo, in torneo, non hai tanta fiducia, perché perdi sempre, e a me è successo spesso questo, un periodo andavo in Germania a allenarmi, perdevo sempre, perché giocavo, ho capito, con dei fenomeni pazzeschi, e tornavo, sì, ero migliorato tecnicamente, ma non avevo grande fiducia. Quando sono tornato ho cominciato anche a allenarmi e a giocare delle partite in allenamento con gente più scarsa, dove vincevo comodamente, ma questo mi aiutava un bel po' un bel po', perché avevo fiducia, ero un giocatore che vinceva, il suo mix è... Ok, è interessante questa cosa, vediamo prima il mix che dice lui, nel senso che c'è un effettivo rapporto con quelle che sono le dinamiche seduttive, a mio modo di vedere, però, cioè, è un rapporto che non so quanto sia realistico per la maggior parte delle persone, ora mi spiego meglio. Sentiamo qual è, secondo lui, la proporzione giocare versus più bravi, versus meno bravi, e poi cerchiamo di capire come questo si adatta al diventare più bravi e rimorchiare. 70% con gente con cui vinci, 30% con gente con cui perdi, questo prima delle gare, è importante questo? Ok, allora, intanto io non so se questo sia ripetibile, magari se tu sei un grandissimo allenatore di tennis, riesci a mettere il tennista a competere con 7 persone meno brave e 3 più brave, in seduzione non funziona veramente così, cioè, cosa dovresti far approcciare 7 donne di un SMV facile per te e 3 donne di un SMV difficile, e in realtà quando siamo fuori a rimorchiare non è che il mondo ci tira, diciamo, le donne dietro in questa sequenza, no? Quindi è poco fattibile. Però, diciamo che c'è un qualcosa di vero, anche in queste dinamiche. Per dirti, io prima di girare i miei video sul campo, in realtà mi, tra virgolette, allenavo a Londra. Londra è una realtà molto più difficile di quella che non è l'Italia, e quindi poi quando vieni in Italia, avendo fatto i muscoli a Londra, sembrai volare, no? È un po' come se tu sei un nerd di Dragon Ball, come quando Goku si allena nella navetta spaziale, prima di entrare a Namek, e con la gravità aumentata, poi, quando ti ritrovi a gravità normale, ti sembra tutto più facile, no? Allo stesso tempo, però, c'è del vero, nel senso che, allora, è un balance un po' complicato, no? Nel senso che, da un lato è vero che se io mi alleno al massimo nella difficoltà, poi, in partita, sono più avvantaggiato. Ma in realtà, in seduzione, sei sempre in partita, no? Perché tu stai sempre cercando di arrivare alla chiusura con la ragazza. E quindi, questo è un primo problema con questo tipo di teoria. Il secondo è che, in realtà, ci sono paesi, io te lo posso dire perché sto iniziando a fare quello che definiamo geomaxing, che ti danno sia più riuscita in termini di interesse, almeno statistico, da parte delle ragazze, e sia ti danno ragazze più belle per quelli che sono i tuoi, ovviamente, limiti genetici e sociali. E quindi, in seduzione, non funziona veramente così. Però, come concetto di massima, io sono assolutamente d'accordo che ci sono dei posti in cui ci si allena a gravità 100, per così dire, tornando alla nostra metafora lì di Dragon Ball che ho fatto prima. E quindi ci sono determinate città che possono essere, che ne so, Londra, New York, Las Vegas, Mykonos, e posti di questo tipo dove la competizione è estremamente alta, che possono servirci almeno come un periodo in cui farci le ossa. Sono, diciamo, degli allenamenti anche piuttosto brutali, a seconda anche di quella che è la personalità dello studente, del praticante, di come vede l'approccio, di come vede il rifiuto, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è una parte di vero in quello che lui dice. Certo che io non so se è realistico, se tu sei un tennista, fare tre allenamenti, no, sette allenamenti con meno bravi e tre allenamenti con più bravi di te. Questo non ne ho la minima idea, francamente. In seduzione, diciamo che ricreare questa cosa è estremamente difficile. E anche se si potesse, nel senso che tu ti metti lì sulla riva del fiume, per così dire, in Duomo, magari, ad aspettare le ragazze che passano, è una roba al limite della masturbazione mentale, nel senso che per mantenere questa statistica dovresti aspettare che, cioè lasciar passare le ragazze che magari vuoi approcciare, per aspettare quella ragazza che secondo te è in quel range, che non ha veramente senso. Anche perché comunque, ricordiamo, in seduzioni no, sono più che sì. ...da considerare, perché se no sul lavoro, ad esempio, ti paragoni soltanto a dei fenomeni. Lancia la tua start-upina, eh ma quelli sono dei fenomeni, ma quelli hanno preso il round mega di investimento, ma quelli hanno scalato in 75 paesi, ma quelli hanno preso il fenomeno del talento, ma quelli... e basta, basta. Cerchiamo di paragonarci anche a quelli che invece non hanno magari ottenuto risultato, a quelli che neanche sono partiti con una start-up, a quelli che non hanno fatto nulla di quello che abbiamo fatto noi. È un esempio stupido. Ecco, c'è un counter-argument relativamente a quello che lui dice. Cioè, è ovvio che se io mi paragono ai fenomeni, allora in realtà è dura sentirmi un figo, no? Ed è vero. Al tempo stesso, e questo tra l'altro è un consiglio che va dato anche in situazione, cioè, se voi ragazzi siete normali e vi paragonate al giga chad che conoscete della situazione, allora siete destinati a rimanere molto, molto frustrati, ok? Però, se trasliamo questo discorso all'approccio, cioè alle donne che voi approcciate, in realtà... Ora, non voglio spingervi ad approcciare in maniera folle e spam, ok? Però, diciamo che, come regola generale, più voi vi, tra virgolette, confrontate con ragazzi che sono migliori di voi, qualsiasi cosa migliori voglia dire, più loro, A, a fronte delle donne che sono più selettive, B, a fronte del fatto che hanno più azioni, e C, al fatto, relativamente al fatto che si trovano già sopra di voi, ovviamente tenderanno ad essere meno interessate, poco interessate, eccetera, eccetera. Questo vi forza, in buona sostanza, a aumentare il vostro vibe al massimo per uccarle, almeno dal punto di vista di subcomunicazione. Quindi, per tornare alla nostra metafora di Dragon, Bombologi, non so perché, va così, in buona sostanza, se voi cercate di, tra virgolette, pescare al di sopra, o quanto più al di sopra possibile, il vostro SMV, il vostro vibe deve essere in versione Kaioken, per chi capisce la metafora, ok? Quindi, se uno ha la forza emozionale, e se non ce l'ha, la deve costruire, o deve fare le azioni giuste, nonostante la mancanza di quella forza emozionale, in realtà, anche sforzarsi di fare le azioni giuste, in una, tra virgolette, fascia di peso, che ci ostica, in realtà, ci aiuta a migliorare moltissimo. E poi, sono miglioramenti che vediamo in maniera trasversale nei nostri risultati, a lungo termine. Sappiamo che paragonarsi agli altri non è mai una strategia, ti paragoni solo a te stesso. Tutte queste pippe mentali, frasi fatte, parole fatte, che uno deve cercare di togliere, per cercare di ragionare, su quello che funziona per te. Che cosa funziona per te? Allora, sul lavoro, cercare di avere un approccio, che ci dà anche delle soddisfazioni, questo funziona per me. Perché se no, mi continuo a dare solo delle martellate. Invece, magari ora... è la seduzione molto più martellante del lavoro. Però c'è una cosa sulla quale sono in disaccordo con lui. Cioè, lui dice, io mi devo paragonare solo a se stesso, in realtà è una frase fatta, è un po' un cliché. Ed è vero. Però è falso, nel senso che, soprattutto, in un qualcosa come la seduzione, mi viene in mente che nel suo bodybuilding, cioè, degli, tra virgolette, sport, la seduzione non è uno sport, ovviamente, ma passami il termine per capirci, che hanno comunque una caratteristica genetica che dà una certa rilevanza in quelli che sono i risultati. Se io mi paragono a dei mostri di natura, invece che a me stesso, in realtà tendo ad entrare in un loop mentale negativo, invece di, tra virgolette, isolarmi da quella che è la realtà, per massimizzare me stesso. Cerco di spiegarmi meglio. Io c'era un tempo in cui a Milano uscivo, con questo, definiamolo natural, lì nella terra è semplicemente un gran bello, e lui faceva molto meglio di me, ovviamente. Poi io all'epoca non è che sapessi tutto quello che so oggi, però farebbe ancora meglio oggi, sicuramente a parità di condizioni. Nel senso che, quando c'è una grossa sproporzione in SMV, purtroppo diventa molto difficile colmarla. O magari puoi colmarla in termini di reazioni iniziali, no? Cioè, se tu alzi l'energia, per esempio, dei ragazzi in discoteca, allora tu magari puoi anche portare via le ragazze al natural di turno, in quello specifico rangetto. Però sempre queste, alla fine da questo vogliono essere scopate, ok? Quindi, quello che sto cercando di dire, è che, per moltissime persone, me sicuramente compreso, in realtà, essere in una realtà in cui ci si scontra, scontra tra virgolette, con persone che hanno dei superpoteri con i quali voi non potete stare al passo, tende a portare queste persone, in uno stato, molte persone scusate, in uno stato negativo dal punto di vista mentale, e questo rischia di essere una spirale che va a danneggiare quello che è il vostro vibe e se voi danneggiate il vostro vibe, che invece è un qualcosa che voi dovete proteggere a tutti i costi, in realtà i vostri risultati si abbassano, ok? Quindi, il paragonarsi solo a se stessi e a volte anche isolarsi è un qualcosa che se voi volete massimizzare al massimo quello che potete spremere dal vostro SMB, è una pratica che può essere molto utile. Ho raggiunto i risultati che per me non saranno tanto, ma in generale possono essere qualche cosa di valido, ecco. E terzo suggerimento di Messier Muratoglu per costruire più fiducia in noi stessi è quello di allenare i punti di forza. Questo è un altro grande classico che però mi fa piacere rileggere nelle parole di un grande allenatore di tennis. Se tu ti concentri su tutti i punti deboli che hai a livello aziendale, a livello lavorativo, a livello professionale, se sei un libero professionista, e cerchi di migliorare i tuoi punti deboli, ti sembra che sia la strategia giusta, ma poi tu in partita vinci grazie ai tuoi punti di forza. Se scendi in campo e hai un dritto che sposta il campo, beh, quello è il tuo punto di forza, alleno il mio punto di forza, in gran parte. E poi una percentuale del tempo cerco di migliorare, magari anche a rovescio. Sul lavoro è la stessa cosa. Magari sei bravissimo a vendere e sei un asino della parte di contabilità. Eh, ho capito. Quello che ti porta il risultato tuo è quello, la vendita. Cerchi di concentrarti sulla parte di vendita. E poi ovviamente cerchi di migliorare anche le altre parti. Però è molto difficile portare avanti tutto nello stesso tempo, far crescere tutto lavorativamente nello stesso tempo. Non è per niente semplice. A volte uno si concentra solo a cercare di tappare i buchi e migliorare dove non funziona bene. Però così non riesci veramente a far venire fuori quello su cui tu fai la differenza. Magari è comunicare, magari è vendere, magari fai benissimo i conti, magari sei bravissimo a selezionare le persone. Devi concentrarti su quello che sai far meglio. Se no, non vai lontano. Morale della favola. Un po' di fiducia in noi stessi. Dai, per questo 2022 diamoci un... Ok, è una considerazione interessante quella di aumentare o cercare di massimizzare i punti di forza. e ciò nonostante non credo che si adatti particolarmente al discorso seduttivo. Il modo in cui io cerco di spiegarla a quelli che sono i miei studenti è il seguente. Quando voi cercate di massimizzarvi è un po' come se vi vedeste come il personaggio di un gioco di ruolo, no? Quelli che hanno vari punteggi, attacco, forza, difesa. Insomma, voi li sapete sicuramente meglio di me. Io uso questa semplicemente come metafora. Il problema è che è vero che saranno diciamo le caratteristiche che mi danno non che mi danno in cui io ho un punteggio più alto a darmi i risultati più importanti, però è anche vero che quando io sono in alto in una caratteristica colpisco un muro definito in inglese diminishing return. Cosa significa? Se... l'ho spiegato molte volte ma è bene ripeterlo perché è molto importante. Se io per esempio tecnicamente sono un 8, ok? Se arrivo a 9 e a 10 ci saranno sicuramente degli ulteriori risultati ma nulla a che vedere con per esempio se sono in sovrappeso il fatto di diventare estremamente in forma e quindi passare magari da un 3 di forma fisica a un 7 cioè quel passaggio da 3 a 7 è molto più importante del passaggio tecnico da 8 a 9 o da 8 a 10 e così via nel senso che la cosa più importante dal punto di vista seduttivo per quanto mi riguarda è non avere o dire non avere punti deboli a volte difficile nel senso che dipende da quello che è il praticante e dalle sue condizioni di partenza però cercare di avere diciamo delle statistiche che non tendono al basso o non tendono al basso in troppi settori perché allora diventa molto molto complicato quindi il fatto di per così dire sovrallenare magari o super concentrarsi sui punti di forza secondo me diventa più importante per un avanzato ma all'inizio tappare i buchi nei punti di debolezza è la cosa che porta più risultati e risultati più efficienti bene questo è quanto fammi sapere cosa ne pensi di quelle che sono le mie considerazioni sul come sviluppare la fiducia in se stessi partendo dalle considerazioni di questo allenatore di tennis fermo restando che per chiudere un po' il cerchio di questo video per quanto mi riguarda in soluzione fiducia in se stessi è data da una formula che è molto semplice e cioè in buona sostanza competenza più risultati e oltre a questo aggiungo anche il fatto di mantenere questa competenza allenata sempre ben allenata infatti persino nel mio manuale per super principianti a trazione immediata spiego come servono comunque dei periodi di mantenimento cioè ci saranno dei periodi in cui tu ti sfondi il lavoro per imparare questa roba però servono comunque dei periodi di mantenimento in cui mantieni quantomeno un minimo di memoria muscolare chiamiamola così se invece a te interessa dare un'occhiata a tutti quelli che sono i parametri che tu puoi andare a migliorare diventa più interessante magari per te dare un'occhiata a Insider Mind l'altro mio corso quindi direi che per oggi è veramente tutto e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti